Venuto Per accedere alla segreteria telefonica mobile Componi il tuo numero Seguito dal tasto Cancelletto Digita il codice segreto Non ci sono messaggi Per personalizzare la segreteria telefonica Digita 2 Per registrare il tuo nome Digita 1 Per modificare il tuo messaggio di benvenuto Digita 2 Per registrare il messaggio di lunga assenza Digita 3 Per modificare il codice segreto Digita 4 Per disattivare la richiesta del codice segreto Digita 5 Per maggiori informazioni Digita 6 Per tornare al menu principale Digita 7 Digita il nuovo codice segreto di 4 cifre Seguito dal tasto Cancelletto Il nuovo codice segreto è Per registrare il tuo nome Digita 1 Per modificare il tuo messaggio di benvenuto Digita 2 Per modificare il tuo messaggio di benvenuto Reg absendo